Il serale di Amici 2015 inizia oggi 11 aprile per la sua 14esima edizione. La prima puntata dell'atteso talent musicale va in onda alle ore 21.10 su Canale 5. Per questa edizione Maria De Filippi ha scelto due coach molto importanti, Emma Marrone ed Elisa che guidano rispettivamente la squadra bianca e quella blu. Nella prima squadra, quella bianca di Emma appunto, fanno parte i cantanti Davide, Valentina e Briga, con i ballerini Christian, Claudia e Sheila. Con la squadra blu invece gariggiano i cantanti Paola, Luca e i The Colors, con i ballerini Giorgio, Michele e Virgine. I giudici della prima puntata sono, oltre a Sabrina Ferilli e Francesco Renga, il cantautore Renato Zero e, giurato d'eccezione, anche Biagio Antonacci. Tra gli ospiti ci sono il gruppo dei Modà, Gianni Morandi, che si esibiranno in duetti, ma anche Roberto Saviano e Carlo Cracco. Insomma, si attende un grande inizio per questa stagione del Serale di Amici 2015, che ricordiamo va in differita.